Ehi, mamma, che cos'è che sta a cuore ai sedicenni? Quando avevo sedici anni io, l'unica cosa che mi stava a cuore era distruggere il patriarcato e bruciare tutto. Oh mio Dio, le donne costituiscano una forza rivoluzionaria. Sai che hanno iniziato a fare le classifiche? Emma Cunningham verrà eletta più chiavabile per il secondo anno di P. Chi da Pascal sarà più bel culo? Chi Tim Price più bel davantale? Che bello non essere puntate da nessuno. Certamente. Ti sono mancato? Sei serio? Dove vai? Smettila. Posso aiutarti? Non lo so, poi. Ti sta dando fastidio. Mi sta molestando. Se tu usi quella parola, significa che devo fare un sacco di cose. Lo sapete che la vostra scuola è strana, vero? Ignora Mitchell. Se tieni la testa bassa, passerà oltre e darà fastidio a qualcun altro. Ma io terrò la testa... alta. Perché lo abbiamo accettato? Nessuno batte cigli. Le mie amiche e io protestavamo contro tutto. Abbiamo fatto un sacco di sbagli. Ma sei contenta? Certamente. Che dovevamo fare? Niente. Chiunque abbia scritto Mopsy è una persona cazzuta. Sapete cos'è una porcata? Sono stata mandata a casa per una canottiera. Jason è sempre sbracciato. La gente si rifiuta di chiamarmi con il mio nome nuovo. Non mi piace essere votata più bel culo. Disegnarsi i cuori e stelle sulle mani per esprimere sostegno. Che cosa fica? A tutti i ragazzi qui serve tutto l'aiuto possibile. Non nascondermi segreti. Veramente sono già incinta. È una battuta molto spiritosa. Vero? Vorrei tanto sapere chi ha iniziato Mopsy. E chi sarà il prossimo? Questa sembra una questione femminile e io ne resto fuori. E se lei non fa niente, allora è parte del problema. Ho notato che qualcuno sta riprendendo, quindi io... Devo andare tantissimo in bagno. Odio che veniamo messe da fare. Ignorate. E nessuno fa niente a riguardo. Nessuno ci ascolta. Rivoluzione, baby. Ciao. Prima le signore. Posso dirlo oppure... Vuoi entrare prima tu? Sì, grazie. Ci mangerebbe.